Musica La vicchiori, sirena Vai Attenzione, a tutte le auto Pazzo barricato in casa, minaccia strage In via Carlos Solvairaghi Numero 4 È per noi Usare prudezza perché è armato Ripeto, a tutte le auto Tranne che a quella del commissario Bellachioma Non è per noi L'auto del commissario Bellachioma Si rega ai mercati generali per approvvigionamento mensa Acquistare 30 kg di broccoli Vai, vai, vai A mercati generali? No, sul luogo della strage Ho detto chiaramente che non è per noi E di chi arriva prima? Camicchioni E che faccia e brincazzere mi devi fare? Piano Piano Andiamo, nonnetto, che la guerra è finita Ah, portecci tu E da tu nonno Che cosa ridi? Camicchioni con quella faccia da ebete Brigati che la strage non aspetta Allora Non parli Madonna, benedetta dell'alto mare di Andri Togli il freno a meno Riprova, Camicchio Ingrana la seconda Ma pura pazza io Camicchio Camicchio, mi fermo Io la tibia ti spezzo I malleoli, compreso le cartillagini Dove vai? Che fai, giradotto? Eh? Salti su, commissario Salti su Salti, salti Che se mi fermo Si spegne di nuovo il motore Salto, salto Fermo un attimo Capo la portiera Ti smacchieto No, no che ho paura Camicchio, io ti ammazzerò Ti spudellerò Ti smaccherò Ti smacchieto Ti smacchieto Uff, 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 uff Atti, uff, uff Iha! Uff, uff, uff È scappato il matto Ma chi è quello stronzo Io Scusami Giannetti Credevo di arrivare in demo per arrestare il pezzo Invece sei riuscito a farmelo a scappare E vabbè adesso lo prendiamo No Ti la mi sono fitto dalle palle Dai Stronzone maledetto Dalle palle Caputtene un giorno o l'altro me la pagherà Me la pagherà Nell'attesa intanto si potrebbe fare un saltino ai mercati generali Quelli della mensa aspettano Attenzione, attenzione A tutte le auto, ripeto, a tutte le auto A decisione di quelle del commissario Bellachioma Rapina in corsa via Fioranelli Vai Via Fioranelli vendotto di corsa Questa volta dobbiamo arrivare primi Comissario ma hanno detto Lo so che hanno detto Che sono sordo, Cavicchiolo Ma è possibile, dico io Che non ti stimola niente in questa tua vita maledetta Non hai un po' di ambizione Un po' di arrivismo Non vuoi diventare commissario come Giannetti Come me Come lei no Cavicchiolo non va allo spiritoso Guardi che io ci metto poco a spezzarti in braccio all'altezza del gomito Anche se stai guidando, eh E cammina, sbrigati Facciamo piazza dei mille Passiamo dai piedi del 500 Al numero 250 Gira a destra Ci preoccupi, commissà Conosco una scorciatoia Ci giremo a destra e arriviamo prima Commissario, io lo giuro Ieri non c'era Comunque se ci sbrigiamo facciamo in tempo, eh Salga che si sporca i piedi Meglio che sparisci subito, Cavicchiolo Che ho i piedi occupati Frena, Cavicchiolo, che siamo arrivati Frena Commissario, non mi si stacca il piede Deve essere il cadrame Frena, Cavicchiolo, frena E non si stacca Mi stacco la testa io, Cavicchiolo E non si... Oddio 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 Adiosce di luogo punto Ciao Lo sapevo, dieci minuti di ritardo come al solito Ma cosa credi, che la gente sia qui a aspettare i tuoi comodi Eh ma io stavo lavorando, Elvira Sapessi quello che è successo oggi Due delitti passonelli, una rapina a mano armata Dai, chiudi la porta La porta, la porta E levati le scarpe Le scarpe Ecco le scarpe Siamo in ghiesa Bello, veramente bello qui Sì, è Gianni che ha tanto gusto In tutto Non toccare, eh Ecco qua Sento dei rumori strani Che avete operato in casa? Ma che spiritoso È Gianni che sta componendo È un artista Questa è musica elettronica Scusami tanto Ma io in questa materia sono ignorantissimo Ecco, appunto Siccome hai riconosciuto che sei un terrone ignorante Parliamo d'altro Eh no Vorrei mica sederti sul divano bianco Per carità che più bianco non si può Dai, siediti qua Qua? Qua, qua Bene Ti sarai chiesto perché ti ho fatto venire qua di corse? Sì, cioè, no, non so Eh certo Sei il solito egoista Quando mai ti sei interessato degli altri tu? Ecco, per esempio Quando io ti ho detto molto civilmente Pasquale Sono innamorata di un altro Me ne vado con lui Tu? Tu cos'è che hai pensato? Lasciamo perdere, ma che è meglio No, no, dillo, dillo Ma se, adesso stiamo separati Tu pensa la tua vita Io penso la mia E siamo a posto, va bene No, ti prego, insisto Cos'è che hai pensato? Che sei una puttana Guarda, lo sapevo Sei mai stato un signore? Avevo ragione Non ti sei minimamente preoccupato di me? Ecco Non ti sei chiesto Come avrebbe reagito quel poveretto di Gianni Vedendomi arrivare a casa sua Con dietro nostro figlio e il mio cane Non hai mica pensato nel tuo bieco egoismo Che potevano rovinare la mia e la sua felicità? Francamente, no E adesso Adesso che finalmente Stavo per partire per la prima Sospirata luna di miele con Gianni Magari tu pretenderesti anche Che me li portassi dietro Chi? Il bambino e il cane Ma scusa La luna di miele nostra Non ti sei portata a tua madre Quell'altra disgraziata ruffiana Della sorella di tua madre? Chi è? Che è stato? Niente Gianni tesoro Niente Solo mio marito Un si bemolle Ho sentito benissimo Era un si bemolle lungo Signor Genna È inutile che guardi a me Io non ne so niente Io sono andretto adesso Manco l'ho visto il si bemolle Ah, questo Oh La nota che cercavo da settimane Praticamente componiamo insieme Io non l'avevo capito Che cercavi il si bemolle lungo Se no glielo davo sulle gengive Il si bemolle lungo Signor Gianni Uffa Ricomincerai mica Con la tua solita gelosia meridionale Eh Pasquale Oh mamma Ma come ho fatto a sposarti Alvira Crediamo ancora a queste stupidette Siamo nel 2000 E io sono geloso Di mia moglie Che va a luna di miele Con uno che cerca il si bemolle lungo Ma che me ne freca a me Che me ne freca Correggimi se sbaglio Ma quello non è Luca Nostro figlio E certo Che vuoi che sia L'ultima volta che l'ho visto È stata domenica allo stadio E ce l'ho portato io Certo fa piacere Complimenti eh Perché? Vedere un figlio che cresce così bene Espansivo, educato Proprio sei orgoglioso Di essere il padre ecco Ma dai Lascialo perdere Innamorato Ma lo sai che mi ha detto Che adesso è contento Di venire a vivere Per un po' con te Ah Adesso ha ferretto Tutto il marchigegno Il viro E c'era bisogno Di fare tutto questo casino Tu lo sai che non è possibile Il mio lavoro Non me lo permette E poi Passi pure per Luca Ma quella bestiaccia Del tuo cane No 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 Onofro Non cominciare Per cortesia Con i tuoi salamelecchi E per piacere C'ha la miseria Senti ho detto di no Ed è no eh Chiero Non cominciare con la zamba Perché non mi tenerisci Stati fermo Onofro Per piacere Non mi bacere Attenzione Attenzione A tutte le auto Rapina in corsa Alla banca di via Gucci I banditi sono ancora All'interno della banca Usare la massima prudenza Per non mettere a repentaglio L'ingolumità dei civili Usare le armi Sono in caso Di assoluta necessità Ripetiamo Una rapina Tre isolati da qui Corriamo allora Metti tutte le sirene Spianati Metti in moto Tutto caso Com'è Aspetta E piccoli Il cane Il mio figlio Le vadiche Com'è Aspetta Andiamo via Via Tutto caso Il portabagagli Apri il portabagagli Sbrigati Subito E lasciamo le palche per terra Questa volta non gli scappa Capisario Sbrigiamoci A papà te lo do 5 a 1 Che te scappano E io ti do un calcio in culo Che ti rimando da tua madre Capito? Fermi 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 Polizia Fermi Un figlio di puttazzo Io ti sputello Ti metto il destino a tracollo Disgrazie Lei che cosa fa? Aspetta Prende i soldi Li porti in banca Disgrazie Ti passa a stare Ti fa male? Ma è impazzito Io sono Tu sei un disgrazie Un assassino Un delinquente Un cassiere capo Un cassiere capo Sì Un ca... Così Così Che c'è Permesso Permesso Scusate Ciao Ciao Cassagna Ci vediamo alle 4 in un Scusate Ah Giannetti Scusate Ci incontriamo sempre negli angoli Ci scontriamo E carini Ci scontriamo Perché Senti Giannetti Per cortesia Fra colleghi Sai qualche cosa di... Ah ma non ti preoccupare Bella Chioma A proposito Tu conosci il commissario Bella Chioma Mia moglie Ah molto lieto signore Ti hanno trasferito in alto Molto in alto E sa per me è importante signore Sapere diciamo la destinazione Ci vediamo dopo Giannetti Ciao Ciao Ma si può sapere dove chezzo si trova questo San Vito Alto San Vito Alto Provincia di Trento Abitanti 321 3254 metri sul livello del mare Ultimo avamposto di polizia Prima del confine E ho letto le notizie dal certificato di morte dell'ultimo commissario Che è deceduto per polmonite a Ferragosto 20 gradi sotto zero La minima No no La massima a mezzogiorno Ecco perché quello stronzo di Giannetti mi ha detto Ti hanno trasferito molto in alto Ma questa volta mi ingerzo come una bestia di brutto Perché carolo Cascio Io vado da un onorevole Da un ministro Dal presidente della repubblica Se hai chiesto Signor commissario Guardi a questo proposito Devo comunicarle purtroppo che il signor dice questore E a casa ha malato Il questore è andato in ferie E il sottosegretario rivuole le sue chiavi Dice che lei sa di cosa si tratta Sì sì lo so che cosa vuole Lo so Perché io sono sempre il capo espiatorio eh Il commissario Bella Chioma Ma carolo Cascio me la pagano Me la pagano Non finisce Lo zito Oh lo zito Signor commissario buongiorno Dica E che non c'è nessuno qui Hanno scioperato tutti Eh no no Stanno tutti in salla di proiezione Lo zito levete di mezzo Non mi farei ingazzare Che sono già abbastanza ingazzato per condomia Capito? Me stanno giusto chiamando Devo andare Meglio così C'è anche la luce rossa Questa ripresa è stata effettuata dai servizi di sicurezza della Germania federale Ci è giunta oggi Lo sceico Abbasian ha il suo arrivo a Bonn È la prima volta che mette piedi in Europa È il 17 luglio Venerdì Qui sta dicendo che il suo paese è disposto a diminuire il prezzo del petrolio A dissociarsi E a mettersi in concorrenza con gli altri paesi arabi Attenzione adesso all'uomo che entra da sinistra È una delle sue guardie del corpo Tra un attimo lo coprirà E prende il colpo destinato ad Abbasian E questo è il sesto attentato Mai vista fortuna più sfacciata Vediamo l'ultimo Qui siamo in Francia Tre giorni fa Ma qui avrebbe dovuto morire E invece no Perché l'auto di Abbasian Che al momento dell'esplosione Doveva trovarsi proprio nel punto preciso In cui era collocata la bomba Per un banalissimo incidente ritarda E al suo posto esplode l'altra Beh, un bel culo Eh già, è proprio il caso di dirlo Ma non possiamo sempre contare sulla fortuna Perché secondo un calcolo delle probabilità Abbasian potrebbe venire ucciso Proprio mentre si trova qui da noi Purtroppo la festa l'ambasciata È il nostro tallone d'Achille E quella non si può eliminare È lì che avverrà la firma per il petrolio E probabilmente è proprio lì Che il killer cercherà di colpire Abbiamo a che fare con un uomo molto duro Possibile che non ci sia nessuno Che lo abbia visto Sì, tre persone Ma purtroppo noi abbiamo un filmato Che riguarda solo l'ultimo Dei tre testimoni Proiezione Gli altri due sono stati uccisi Giannetti Ma le sembra questo il momento di scherzare? No, 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 no Non è uno scherzo, signor questore Questo è l'unico spezzone di film Che abbiamo sul terzo testimone Andrea Ritter Alias Andrea Rossi Alias Andrea Seban Un uomo? Un travestito Che per caso si è imbattuto nel killer Dopo il tentato omicidio di Amsterdam È l'unico che è rimasto in vita L'unico che sarebbe in grado di riconoscerlo Da allora non fa che nascondersi Che cambiare nome e identità Sa benissimo il pericolo che corre Ma io sono riuscito a scovarlo, signor questore Lavora a Roma In un locale di travestiti Il sexy gay Mi dia l'autorizzazione a fermarlo Prima che cerchi ancora una volta di scappare Per salvare la pelle Un colpo da promozione, Giannetti Complimenti Dovere E qui scatta il mio piano, signor questore Perché se è vero che non c'è due senza tre Il killer cercherà di eliminare anche questo terzo testimone E noi lo lasceremo fare Non la seguo Ma al momento opportuno Prima che riesca a colpire Gli saremo addosso e sarà nostro Insomma, questo travestito Questo Andrea Ritter Ci servirà come specchietto Per le allodole Ok, c'è Tu mi vuoi mandare a San Vito Alto Per farmi munire di broncopolmonite A Ferragosto a me? No, signor commissario Allora, mi raccomando Tu non l'hai visto a me Non l'hai visto? Ho bisogno solo di 48 ore di tempo Capito? Dammi la mano Quando sarà il momento Ti farò diventare guardia scelta Ma io sono già appuntato E diventerei maresciato Buonasera, ragazzi Buonasera, commissario Sì, eh Buon offre Ma non dovevi essere a casa tu Che ci fai qua? Santa Teresa di Gallure Sempre in mezzo stai Cammina, sbrigati Camicchioni Comandi Camicchioni, missione sagratissima Partire a razzo Subito, signor commissario Camicchioni Camicchioni Io ti spazzo tutti e due gli stinti, maledetto Anzi, menischi Che ti fanno più male No, no, che con te non andiamo d'accordo, eh Sali, sali Via, hop là Dentro Vuoi guidare tu? Sposta Spostati Piannaggia a te Vabbè, allora che facciamo? Vediamo davanti La prima che ti puzza sta lacca A te il faiato Oh, oh no Oh, oh Oh, oh Ah, ma un cane Attenta, guarda Sta macchiando tutti i pantaloni San Bernardo, benedetto Ma è possibile che devi fare sempre la pizza a modo tu, o entra? Cerca di capire, non ti posso portarla dentro È un locale equivoco Ti troveresti a disagio Non ci sei abituato tu Io vado, io vado a lavorare Mica vado a giocare Stai buono, su Ciao Oh, madonna benedetta dell'ingoroneta di foggia cinofila Sentimi bene, Onofrio Io già sono tanto incassinato per i fatti miei Guardami in faccia Oh, parliamoci da uomo a uomo Tu già sei un San Bernardo strano che ti hai incontrato in Marocco e non so che ci facevi là Adesso che mi vuoi fare? Mi vuoi incassinare di più se mi trasferisco a San Vito Alto? Tu ci sei abituato, ma io no Eh, vai in macchina su Poi dici che mi vuoi bene Ah, vuoi fare il furbo con me? Vuoi fare lo Yorkshire? Aspetta Lo vedi questo? Eh? Tiè L'anima degli mostazzi tua Pardon? Senti, non c'è prova più che t'abbotta, hai capito? Ma che vuoi da me? Io t'ho avvertito Sandy? Sandy? Oh Sì? Per cortesia, sai dove è Andrea? Ah, uffa, pure tu! Ma è una fissazione! Tu dico questa Andrea! Andrea non è venuto oggi! Come te lo dovevo dire in francese? No, tipo in italiana, ma stai calmo Ma pure quell'altro che è venuto prima a chiedermi ad Andrea, a insistere, dov'è, dov'è? Non lo so l'indirizzo dell'Andrea, non lo so, va bene? Uffa! Oh Chi è questo che è venuto prima di me? Senti, non tiratemi in mezzo in storia di gelosia, che io non c'entro, capito? E poi io con l'Andrea ci ho litigato, figurati un po' Penso un po' Anzi, fai una bella cosa, se lo vedi, restituisci di questa sciarpetta Che l'ha lasciata qui stanotte quando è scappata via Ma non ho mai detto che non è venuto per niente qui? Perché è scappato via? Senti, cochino, io sono abituato a farmi i cavoli miei L'ultima volta che non mi sono fatto i cavoli miei mi hanno spezzato un braccio Senti, cochino Se vuoi che non dispezi l'altro braccio, dimmi subito dove sta Andrea, capito? Non lo so, non lo so, non lo so Allora perché continua a dire non lo so e urli? No, sai perché? Perché lo devi chiedere a Marco È lui che ha ricevuto la telefonata È lui, sta lì sulla pista Sei Marco tu? No, sono Franco Marco è lui Che mi volevi? Sì, un momento, ma non ci facciamo illusione Io voglio solo un'informazione, stai calmo La signorina se n'è andata, saranno cinque minuti Guarda che se mi vengono i cinque minuti a me, minghezzo Saliamo lo stesso, sbrigati Oh no, frio Vieni, che scivolo Madonna Madonna Bonofrio Che c'è? Bonofrio Signorita Bonofrio Prendilo Contentoci a vicom di dopo Andrea Ritter Fermo Polizia Buongiorno 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 Stai fermo, eh? Stai ferma. Siamo fermi tutti e due. Non volevo uccidermi, volevo uccidermi, mi hai trovato, oddio. Cortesia, non ricominciamo a correre, che non ce la faccio, per piacere. Ma perché? Sono il commissario Bellachiomo della polizia e se non era per me, quest'ora tu. Stai pure, stai pure. Io ho paura, mi devo nascondere perché se mi trovo ancora mi ammazza. Stai tranquillo, stai tranquilla, con me, stai in buone mano. Ti porto io in un posto sicuro, eh? Stai tranquillo, vieni, vieni. Non dirai, Onofrio, che c'ho le manette. Vai, vai avanti tu, sbrigati. Ma dove, ma dove mi stai portando? Non gridare. Ma dove mi stai portando? Non gridare, ti ho detto. Ti sto portando a casa mia. Questo mica è il locale dove lavori tu, il sexy come cavolo si chiama. Ah. Non avere paura? Eh, no, è casa mia questo. È che non so io che... Mi rompete le vaglioni. Pardon. Perché io non mi porti in quest'ora? Shhh, che quest'ora? Ho trovato! Scusi tanto. Perché io non mi porti in quest'ora? Ma io ho voluto un'idea migliore, capisci? Nessuno va a immaginare che io ti ho portato a casa mia. Quando mi vengono delle idee a me, sono idee vere. Passo? Sì. Tarchiato? Sì. Con accento meridionale? Con un grosso cane peloso Quello è la bella chioma Trovami subito bella chioma Prima del ricevimento di domani sera Anche lì Non sa quello che Casini mi sta combinando Quando la pasta non è al dente Il cuoco è un deficiente Profumo di basilico Un po' di sere ci vuole Sono veramente contento che sei d'accordo con me Vuol dire che sei un ragazzo intelligente Perché io quando mi metto in testa una cosa Non per dire la porto a termine Il mio pieno vedi come l'ho organizzato io Modestamente non vuol fallire Ah grazie Proprio questa che cercavo A mandicare la pasta Da dove casca il suo coso? Ecco qua Mettiamo il sughetto qui Dopo il secondo tocco gli spaghetti qua dentro Ecco Il gioco vedi perché è semplice Perché io ti porto sere salvo all'ambasciata Non so come c'entreremo Ma c'entreremo Tu mi indichi solamente il killer Io lo arresto prima che ammazzi Abagian E il gioco è fatto Ecco la pasta al dente E il commissario non è fetendere Uno, due, tre Perfetto Tutta la faccia di Giannetti Così a me non mi trasferiscono a San Vito Alto E tu finalmente sarai un uomo libero Ah grazie Questo è il vino pugliese Ottimo sai È di mio suocero È fetendore però c'ha un vino Lo beviamo un po' prima Aprite non fate gli stronzi Che se vi è quel coglione di mio padre So fare i vostri Oh siete sordi Aprite Oh Ah eri tu Sì il coglione in persona E mo' Scusa papà ma qui se non parli così Nessuno de se fila E poi c'ho certi problemi Che tu manco dell'immagine Le auto te Beh che stai facendo? È qualcosa da mangiare C'ho fame Alla si sono strafogati tutto Giustamente Basta? Eh vabbè Allora qual è questo problema che ti tormenta? Sono cavoli amari Perché vedi Eh Io sono innamorato di Maria Che però sta pure con Gigi e Paolo Ah ecco E poi c'è anche Roberto che gli fa il filo Pure guarda un po' E allora? E stasera nel bagno L'ha baciato pure Sandro Ah porca miseria Ma quanti anni ha questa signora? Undici e mezzo Eh allora è già vecchia E' navigheta Ma lascia perdere Ma chi te la fa fare Molla tutto Ma vattene a papà E non ti innamorare più Perché quando ti innamori Ti si sviluppa l'appetito Sì vabbè Conosci Era mio figlio Finalmente mangiamo in tanta peggio Comunque è una dimostrazione Che gli spaghetti erano buoni almeno Vero? Disgraziato? Adesso ti faccio degli altri Sì? Sì sono io Chi è? Complimenti commissario Ha fatto un colpo grosso Che se la chiappano Mica lo so come si mette Non mi acchiappano Stai sicuro che non mi acchiappano? Beh dipende Se stancano un po' il telefono Mi sa di sì Stanno venendo da lei A casa sua E che c'hai al posto del cervello? Una cassetta della levosina Capicchio? Guarda che io ti sbudello eh Vabbè Ma nell'attesa cosa vuole fare commissario? Si arrende? Non ti sputo invece Perché siamo al telefono Ci vediamo fra due ore Al solito posto Ciao Andiamo Andiamo che sta arrivando Sta arrivando chi? Cosa? I playboy dei poveri E chi sarebbe? Sarebbe Giannetti Un commissario che Ma a te che cavolo te ne frega? Scusa Ho detto andiamo No Io di qui non mi muovo Se prima non mi spieghi Andrea porca puttana Non mi fai incassare io tu Capito? Ah Voglio scendere Che mi vuoi ammazzare? Ti ho detto Voglio scendere Ti ho detto No no Non mi fai sbattere così E' meglio così scendere Fermati La polizia Aiuto Polizia Ma che sei cannibale? Fammi scendere E dove siamo? Ti volevo ammazzare? Ti volevo ammazzare? L'avrei fatto già da mò No? E tira E tira Mi fai male con questa cosa No? Anche questo è vero Ma io non capisco Vivi in quel buco di casa Ti vesti come ti vesti Ma perché come mi devo vestire? Scusi Che mi devo travestire come te Guarda che io sono un uomo normale Sai Questo lo dici tu Fammi un po' vedere Che cosa? Ma la tessera da poliziotto no? Ah ma un disco rotto il tuo Cambia la pundina che ero Ecco qua Avanti Imbara la memoria adesso Ma questa è la tessera della metropolitana Ma va Ma si Oh signore Mi sono sbagliato Dove ero Dove ero la scelta? Nell'altra giacca Nell'altra Ah si Come lo sai tu? E' sempre così che succede no? Ma insomma Mi vuoi dire chi sei? Un'altra volta Se è vero che sei un commissario Perché sei scappato Quando è arrivata la polizia a casa tua? E perché Perché Mi sembro un bambino di 5 anni Con tutti questi perché Ah Perché io se hai visto l'altro Non ci voglio andare va bene? Per di 5 gradi sotto zero A ferragosto La massima Pensa la minima Tu ci andresti a posto mio Oh E allora Rilassati un po' Ma è possibile che pensi Che tutti ce l'abbiano con te? Siediti Beh Non bastano già tutti i cavoli Che c'ho per la capo E poi se tu do una mano a me Io do una mano a te Ma io a te Non ti do proprio un bel niente Hai capito? Uè Ti do un bel niente Ti do un bel niente Cos'hai pensato? Io ho messo la mano qua sopra Ehi Scivonito A me mi piace una femmina Con la F maiuscola Figurati Ma scusi eh E poi per carità Scusami Non è che io ce l'ho con te E con tutti quelli come te Voi siete padroni di fare quello che volete Andate a casa Blanca Andate dove volete Io sono uno abbastanza libero Di mentalità Pure essendo meridionale Ce l'ho detto pure a mia moglie Sei libero di fare quello che vuoi E mi ha preso in barola Disgraziata Sei andata via con un altro Piuttosto sono curioso di sapere Insomma tu Come ti sei accorto Della Del Di che? Non voglio dire Del coso Della cosa Sì insomma Della trasformazione Sai è cominciato con un prurito Ah si? Sì un po' dappertutto E appunto come stai facendo tu adesso Che prendi per il culo? Sì ma solo quelli che mi sono simpatici Ah ma loro ce li siamo sempre Stai buono eh Ho capito Vieni qua Eh no caro mio Che fai? Calmo Stai calmo Ed è inutile che gridi eh Perché qui sono tutte garçoniere Gridano tutti Buonasera commissario Ciao Cose grosse cose grosse Hanno messo una taglia di 10 milioni Sulla sua testa Ah e siccome vorrei cambiare la macchina Mi farebbe pure comodo quella taglia Io il taglio ti do cavicchioni Non la taglia Perché io ti taglio la carota E ti ammazzo Capito? Facevo così per dire E non lo dire per cortesia Vabbè Che notizie mi sai dare del killer? Che sai? Colpisce e scappa Il primo testimone lo ha ucciso Le 10 al bar del laghetto dell'euro Ma come si sa Ma lei mi vuole compromettere? Non ti preoccuparti Ti compromette e poi ti sposa Tanto sto già facendo pratica Col travestito che mi porta presso Ah e come va? Come va? Eh insomma Cominciamo già a litigare Come marito e moglie E che... Ma è possibile? È possibile che devi dire Sei presto lo zede tu? T'aspetto alle 10 al bar del laghetto Ma come fai? Sono sfortunato in amore Ma come fai? Onofrio Non ti posso portare con me Tu già sei casinista per conto tuo Se poi ti metti a rovinare qualche soprammobile Il sottosegretario si incazza con me Oh signora adesso fa l'offeso Rimani qui che dopo ti do il riso soffieto Capito? Ciao Aspetta eh Sì Sì Sono in via Cerena al vento Interno nove Sono chiusa dentro Sandy io Ma che fai? Sei scemo? Scendi da lì Scendi Non mi toccare porco Lasciami C'è quello è porco Vieni qua Lasciami Brutto disgrazzietto giù dai scario Volevi fregarmi eh? Che fai? Rispondi? Vieni pure avanti cara Hanno lasciato le luci accese Deve essere stato quel creativo del ministro di Bella Chioma Bella Chioma? Ti incollega di mio marito? No No cara No Non aver paura Lui si occupa solo della manutenzione Me la tiene un po' in ordine Sicuro? E certo Perché vedi Il povero Bella Chioma È un po' imbranato Ma è muto come un pesce E ci si può fidare di lui Guarda cosa mi ha portato Mio collega dalla Danimarca La valigetta del piccolo sadico Con tutte le istruzioni Adesso vedrai Hai capito? La moglie del mio collega Giannetti Certo corno Ma qui ha l'aria di essere una cosa lunga Mio che possiamo stare aspettare tutta la notte Scusa Silenzio Vediamo D'arrivare all'altra finestra Pieno, pieno Ah Aspetta Chi gira la capa? Chiedimela nero Aspetta è meglio che mi tocco le scarpe Sì È meglio Madonna Peredette lo sterpeto di Cerignola Proteggici Che gioco vogliamo fare, cara? Andrea, per cortesia, regge Sì Reggi Ma cosa fai? Un momento, reggi con la pancia Un momento Ho chiesto casino Che bello, mi fa venire i brividi Sembra la notte del lupo Ma no Adesso ti mangia in un boccone Mangiami, mangiami, mangiami Che ti ha fatto male? Dai, andiamo Vai avanti tu che mi vien da ridere Tieni Pieno 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 Oddio Non avere paura Reggimi Reggimi Sei passato? Sì Aspetta Adesso Passo io Pieno Il piede Dammi la mano Il piede c'è? Sì Dai Dai, dai Stai per scivolare Stai Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Dai, tirami Come ti metti? No, papà Il pandalone, no Dai Il pandalone Oddio, muoio Muoio Dio Moriamo Dove sei? Ci sei? Sì E adesso lo spavento Più spaventata, cara Fingi di essere più spaventata Così Brava Terrorizzata Brava Così Terrorizzata Ecco Vediamo un po' Vediamo un po' Cappuccetto rosso E adesso Che ti fa? Che ti fa? Che ti fa? Che ti fa? Iiii Vedrai che ti succede Iiii Un momento, cara Ehi Pure tu c'hai di queste manie Guarda, bello Neanche tu scherzi Vai avanti tu Che giri A sinistra Che è? Non riesco ad aprire Prova tu Sì Pieno Ma che c'hai ancora? La bella La bella Scusa Basta Se no Moriamo dalle risette Ma che cosa sta facendo? Che bella bocca che hai Per mangiarti meglio Che belle mani che hai Per abbicchiarti meglio Che bella culo che hai Scioglietela voi Ma come vi permettete? Voi non sapete che sono io Sì Tu sei lo lupo mannaro Prendetelo a lui Fermi Lasciatemi Sono insultato Se non faccio Fermi Non sapete cosa fate? Tu lo sai cosa hai fatto? Guarda qui stavoretti È svenuta Ratto Sevizie Tentato stupro Violenze Per calcolarti Adesso vorrà la calcolatrice Se ne sono andate Adesso puoi gridare Fin che vuoi Che c'è? Che c'è? C'è che ho freddo Sono stanca Ho fame Ho paura Sono affamata Hai capito? E che mi è bisogno di urlare così? Sì 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 Ma stava a dire offreme no? E cosa ho detto? E cosa ha detto? Adesso troviamo qualche cosa Che ci vuole? Ecco qua Ti pare che non c'è Eh Oh Dunque Qui ci abbiamo Soglia Sauce La salsa tartare Tomate O pauvron Sotto aceto Sotto vuoto spindo Sotto le gengive Te la do questa E non la smetti di fare giù Di scariota Capito? Eh Dove vuoi andare adesso? In bagno Se non ti dispiace Non mi dispiace Accomodati Come? Davanti a te? E che ti vergogni Davanti a te? Siamo fra uomini no? Che c'è? Fuori Ho fame Ho fame Come se io non avessi fame Zitto tu Sandy Ti do una bella notizia Fra una mezz'oretta Per un negozio Andiamo giù E compriamo tutto quello che vogliamo Ci facciamo una bella manceta Ci facciamo Una bella Sì Sandy Non è che tu Perché sei qualche Qualche soldo Addosso Perché io ne ho La fretta Che si dimentica Il portafoglio Anch'io ti devo dare Una bella notizia Caro Sì Non ho un carina Ho fatto tutto Nel copio dell'automobile No? L'automobile no Perché dove da mia moglie Quella mi ammazza No era solo per Così per non fare Incassinamenti Guarda chi Ah carichioli 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 E che senza numeri È il suo letto Che è il comissario Lascia andare la ragazza Io non ce l'ho con te Ma se ti metti in mezzo Sono costretto a uccidere anche te Uè ringoglionito Ma che vuoi prendere Che io non ho mica paura di te Sai Lascia stelle linee Che c'ho da fare Peggio per te Commissario Questa volta ti ha salvato La riva della polizia Ma ho in mente Un modo molto speciale Di farti morire Gioccherò con te Come il gatto con Topo Senda Senda Dottor Gatto Topo come Io sono Come se La belacchio Che Eh Presto Presto Dobbiamo scappare Andiamo Ma come Non dicevi che questo è un posto sicuro Senti Non ricominciamo sempre con la stessa domanda sceme Se ti dico di andare Andiamo Un ordine Ma non posso così conciata Eh Aspetta Ecco mettiti questo Oh la mia scarpa È lui Chi? È lui No Il killer Entra Sì Brutto Disgraziato Delinquente Mi vuole spaventare a me Tu devi lasciare invece quella ragazza Capito? Beh io stavo solo a telefonare Stavi telefonato Lo so che stavi telefonando Disgraziato assassino Giuro che la sposo Giuro che la sposo A chi? A chi è che sposo? A sua figlia E secondo te io faccio sposare una figlia Un figlio di puttere assassino Delinquente come te Ma io non ce n'ho figlia femmine io Ma lei non è il padre di Patrizia E chi è Patrizia? Ma lei chi è? Ma che te la fai da te che sono io Vatter? Vatter se no ti ammazzo Ti sbudello Ti trivello Andrea Ferma Per favore la prego Mi porti alla polizia Sì devo andare alla polizia Grazie Scendi subito da quella macchina Andrea Ma lei chi? Che cosa decida? Stia calma e stia buono lei Non si preoccupi E non faccia movimenti bruschi Perché è inova Ma questa amica dà fastidi E buona Basta secondarla e dire sempre di sì Torniamo in ospedale cara Su Ma cosa dice? Quale ospedale? Non crederà mica che io Oppure che lui sia uno che Ma no no Per carità io sono per i manicomi liberi Ecco bravo Andiamo Ma è un bugiardo Guardi che ha inventato tutto questo Solo perché mi vuole tenere prigioniera E non brutto Io sono più sana di lei e di lui Sì sì Vieni vieni cara Non ti preoccupare vieni Ma glielo giuro Senta il masto è proprio lui Sì Mi ha rapito Mi ha portato in una garçoniera con il sottosegretario Mi ha portato a casa sua E poi dopo che esplosa la bomba Sa? Sì La bomba Sì Ma sì c'era anche il cappuccetto rosso Rosso E il lupo E il lupo Ma che cos'è ne frega quel signore di tutta questa storia Le racconto un'altra volta Su Stai buona È vero che lei c'ha molta fretta? Sì 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 E vada vada Oh giuro che me la paghi questa giuro Ecco bravo Facciamo tutto un gondo alla fine Andiamo su Fuori Fuori subito da casa mia Ma Elvira Sandy Fuori di qui? Sì ma scalcione Presentarsi qui alle sette e mezza del mattino A chiedermi soldi E portandosi dietro una donna per giunta Beh Ma quale donna Elvira? Questo è un uomo Un travestito ecco Peggio ancora Vizioso e depravato Ma come ti sei ridotto? Non ti vergogni neanche? Oh signore benedetto Elvira Ma come mi sono ridotto? Io non capisco Ti sono venuto a chiedere un po' di soldi Qualcosa da mangiare Un vestito per questo povero disgraziato Gianni Aiuto corri Mio marito mi sta minacciando con la pistola Gianni Ma che sei faccia? È il numero della questura Il 113 cara Carattrezzi Carattrezzi la macchina è mia Carattrezzi sono dalla polizia Sono della polizia Ahia Quando hai inutile Certo che pure tu A fortuna stai messo bene Eh Che vuol dire? Eh Che sei un disgraziato peggio di me Perché almeno io non c'ho nessuno al mondo Ma tu Bella famiglia Andiamo Eh no Basta Oh Guarda che mi fa male il polso eh Non va resistenza Com'è che ti ho un cazzotto Andrea Guardi che io c'ho la testa dura eh Andiamo No No Come Prendiamo l'autofus Le malette ma non posso correre con queste E' qua vicino vai Vai C'è una macchina A me lo vai Scenda fermo Muttimati Muttimati Oddio C'è fino al mezzo. Permesso? Permesso, scusi, avanti c'è posto. Permesso? Che? Questo signore mi ha toccata. Che schifo, ma non ti vergogni. Ti ho beccato con le mani nel sacco, eh? Ma quali mani nel sacco? Non parla difficile. Io la mano la tenevo qua. Ancora? E che fa? Tocchi il sedere della mia signora. Ma non mi permetterei mai. Io ho messo la mano sul sedere della figura. È come se avessi toccato un manifesto. E vabbè, ma sotto mica ci sta il muro, c'è. E che colpa mia? Ah, no, eh? Ma adesso mio marito ti gonfierà il muso come una zampogna. È vero, amore. Certamente. Ah, sì, eh? E gonfiamme un po'. Dai! Ma sei sicuro che è stato lui? No, perché mi era sembrato che quell'altro è quello con la faccia da rapeto. Con la meno a... Ma che cosa ti credi? Che mi fai paura a me? Ringrazio a Dio che devo scendere. Se no ti davo il resto. Però hai visto che il capocciato gli ho dato contro il pugno? Ti ringrazio per avermi difesa. Quando uno sta con me, uomo, donna o... Nessuno gli dà mancato il rispetto. Andiamo. E' meglio che non ti la faccia di un cuore. E' più... E' più... I... Ma 세계a... E' più... E' più... Sì... E' più... Cavicchiori, Cavicchiori! Ho! Ha visto, commissario? Gli onori della prima pagina, lei e la signorina, o forse signora? Eh, Cavicchiori, non è né signore né signorina, è un maschio, un travestito. Ah, no, scusi, scusi la confusione, sai, il fatto è che vederla con tutto quel ben di Dio in più, sa, uno si confonde, ecco, ma secondo lei come ha fatto? Un miracolo, è andata all'Urce, buttate una fondata all'acqua benedetta. Cavicchiori, guardami, io ti devo parlare. Eh? Non qua, dentro. Andiamo? Ma, ma cos'è che c'è scritto qui? Dopo ti spiego. Guarda che io sono lei, lo sai. No, commissario, no. Sia fermo. No, sia fermo lei, commissario, no. No! No, le chiavi della macchina no, quelli almeno me le lasci. Sei fermo. Commissario! Aspettila, ci vediamo al posto numero 16 alle 5, anzi, cioè, voglio dire, alle 5 al posto numero 16. Commissario, ma come faccio a tornare a casa? Mi avete levato pure i soldi. Ah, 1700 lire sono soldi, morta di femmine. Cavicchiori, lo sai che cos'hai di bello tu? Che cosa? Niente. Va bene così. Due, due cappuccine e due cornetti. Mille e otto. Mille e sette? No, mille otto. Eh, allora un cornetto solo e due cappuccine. Ma che succede ancora? Ma io avevo in mano un cornetto e lo stavo mangiando! Quella aveva in mano la cornetto e stava telefonando. Ma non fare, non fare! Sono fuggito proprio adesso, però se li prendete, la taglio è mia. Maledetto, 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 a te quel figlio di puttana di cavicchione! Ma inutile, dai, non vedi che manca la pezzina! Senti, chiamiamo la polizia e facciamola finita, eh! Scendi. Scendi! Dammi una merda. Spendi! Ma io non ne posso più! Spendi! Spendi! Ma... Spendi! Spendi! Ci mimetizziamo qua in mezzo ai rottami e rimaniamo qua fino a staselfi, fino all'ora del ricevimento. È l'una, eh? Proprio l'ora di pranzo. A quest'ora Abbasian sarà già il pranzo d'onore dell'ambasciata. Una volta sono stato di servizio al pranzo d'onore dell'ambasciata. Ammazza quello che mangiano, am di pasta di tutti i colori. Caviale grigio, aragosta. Che poi a me l'aragosta manco mi piace molto. Anzi, mi fa quasi schifo, beh. Con tutto quel limone sopra, il prezzemolo tritetto, l'olio, la maionese. Proprio come lo faceva mia madre. Tua madre? Ah, credi che io non ce l'abbia avuta una madre? E carità, ci mancherebbe altro. Anzi, era pure una bella donna. E che, anche tu come figlio, diciamo, mica sei... Uffa! Ehi. Ehi. Ti gratti? Ma perché uno non è padrono di grattarsi? Per carità. Beh, straiamoci e riposiamoci un po', che stasera all'ambasciata dobbiamo avere gli occhi aperti, eh? Eh sì, va. Così dimentichiamo la fame. Eh. Ammazza quando russi, oh. Oh, girati, che stai russando? Oddio, ci ha trovato. Lava la marciaio. La marciaio. V Во Mendel. Hai empezando? Capito. Allora, caccia uno. Allora, инẳ vero, capito? Gabbè, vosto, guardiamoci. Ah! Ah! Andrea Hanno detto di sì, però Però l'ambiente è quello che è Hanno diffidenza verso gli estrani E così ho dovuto dire che tu sei uno dei nostri, un gay Eh? Eh sì, altrimenti ve l'avrò cominciato a fare domande No, ma che siamo scemi Io uno dei vostri mi metto a fare cosa, cioè la cosa No, assolutamente no Ciao, tracciarola Grazie Pascal? Pascal? Ah, sì? Camera numero 68 Grazie E buon divertimento Guardi che noi andiamo a letto, mica andiamo al cinema, sa? Appunto, caro Disgrazieta E cortesia, Andrea, non ho capito cos'è da ridere E perché non te la cali mica a madre? Anzi, si direbbe che è della stoffa Eh, della stoffa Pensa se mi vedesse mio figlio, altro che stoffa E mia moglie, poi non ne parliamo Mi sputerebbero in baccia Però non ho capito tu che ti sei messa in de... E stoffa Anzi, la stoffa Anzi, c'è... E la stoffa Un po' c'è... E ma... Per la stoffa Scusa, va a zanzarlo. Ma perché doveva capitare questa mbe? Perché? Dico io, perché? Calma, calma. Ma non vuoi capire il brutto stronzo che quello è un uomo? Lo so che sembra una donna, anche bella, ma è un uomo. Che bella è con un uomo. Che hai detto? Non te ne frega niente. Ma allora fai schifo. Sei un degenerato sei. Guarda Pasquale che ti stronzete, l'hai fatta tanta nella tua vita. Ma qui mi sembra che stai raggiungendo il fandom. Ti sputerei invece, ti sputerei io. Calma, calma, calma. Ti siedi qua. Conta fino a 50, fino a 100. Vai di là. Tranquillo. E non lo guardi proprio. Cioè, no, lo guardi, ma da uomo. Lo guardi. Il tuo commilitone, un amico, un brigadiere. Che vuoi andare a letto con un brigadiere? Dalla polizia. Vabbè. Ecco. 1, 2, 3, 4. A letto con un uomo non ci sono mai stato. 5, 6, 7, 8. 9, 10. E non ci voglio cominciare adesso. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20. Ha ha! Colpa di scena, signori! Ci è arrivata adesso una comunicazione dei servizi segreti svizzeri. Andrea Ritteri, il testimone rapito dal commissario Bellachioma, non è affatto un travestito, ma una donna! Ma bene? Come sarebbe? E beh! Nelle indagini niente è casuale. Ogni nuova scoperta può essere una traccia. Lo fa, no? Lo fa, no? Lo fa! Agli oli. Dammi subito tutti gli elementi che abbiamo per l'identificazione del chi. Eccoli qua. Dunque, due parrucche da donna bionde ritrovate sui luoghi degli attentati a Parigi e ad Hamburgo. Ok, bene. Tre mozziconi di sigaretta sporche di rossetto, old fashion di Revlon alla fragola. Old fashion di Revlon alla fragola. Una ciglia finta, modello Vison Sauvage. Vison Sauvage. E una sciarpa di Kiffon. Kiffon? Kiffon. Commissaire. Kiffon, Francesca. Ah, Kiffon. Allora il killer potrebbe essere quella donna, quella Andrea Ritter. Potrebbe. Ma si è stata vista scontrarsi con l'assassino in fuga, commissaire. Appunto. Alla luce dei nuovi fatti potrebbe essere una complice. Perché, guarda caso, è l'unica dei tre testimoni a essere sopravvissuta. è un uomo, chiaro? Chiaro. Vieni qua. Eh? Dai, riposati un po'. Sarei stanco avventuro. Sì, ma io... Tornavo poco. A me bastano... A me bastano due o tre ore a notte. Non ci manco sonno. Sono le tre, sai? Ci mancano ancora cinque ore prima del ricevimento. Ah, sì. Spogliati, dai. Giuro che non ti tocco. Intanto fra uomini. Non posso? Ti dico non posso o non posso? Non posso o non posso? Basta, non posso. E perché? E perché? E perché... Ah, devo andare da Cavicchioli. Me l'ho dimenticato. È già tardi. Devo andare da Cavicchioli. Tanto queste bimbicciano a me. Fanno me la... Dai un'occhiata, eh. Oh, non aprirà nessuno, mi raccomando. No. Ah. Ordine da mangiare per due, eh. Mi raccomando, tutto dall'antipasto al dolce. Non vado a spese. Va bene. Ciao. Ciao. Pensavo che l'avessero presa. Sono dieci minuti che sono qui dentro. Vorrei vedere a te, al posto mio. Io sto venendo a piedi da Piazza del Fande. A piedi? Eh. Ma perché non ha la mia macchina? Non gliela avranno mica rubata? Eh, Cavicchio, il conto di ogni cosa dobbiamo scendere nei particolari. Eh, della tua macchina parleremo a tempo e a luogo. Ci sono novità? Tutte cattive. Eh, mi pareva strano. Allora. Primo. Gli stanno dando la caccia pure quelli dell'Interpol. Sì. Hanno bloccato aeroporti, autostrade, ferrovie, strade, biuzzi. E prego male che non hanno bloccato i Vespasiani. Quelli siamo sicuri. Secondo. Lei al ricevimento non entrerà mai perché ci vogliono i permessi. E i permessi sono numerati. Per cui è inutile che si dia tanto da fare. Senti, io ho un piano. Cavicchio, per cortesia, non ti sporgere che sei alto. Stai al posto di lui. Allora. Io l'arresto, la porto dentro, li becco la taglia. E anche una bella medaglia. Forse. Alla memoria però, Cavicchio. Perché io ti spezzo l'osso del capocollo, ti metto in destino a tracolla e poi ti ammazzo, Cavicchio. Capito? Eh, vabbè. Visto che non mi vuole favorire, ma lei lo capisce che io mi sto compromettendo? Vabbè che questo è un posto discreto, sicuro, ma... Oh! Ma che ci fa le notte là dentro? Qui c'è gente che ha bisogno. Eh, scusette. Fa la pipì, Cavicchio. Non mi viene. Quanto da venire, Cavicchio? Quelli se ne accorgono, sospettano. Sforzati, fai qualche cosa. Fingi, no? Eh, c'ha delle difficoltà, scusette. Sebbia, ma ma sciata, che hanno dato i permessi? A tutti quelli del Corpo Diplomatico, agli agenti scelti, agli orchestrali e ai camerieri extra che devono servire i rinfreschi. Questa è la lista. Camerieri che devono distribuire i rinfreschi. Coniugi bruschi, coniugi bruschi, via bo qua. Senti, del killer che mi dici? Cose turche, commissà, 30 delitti sulla coscienza. L'ultimo testimone lo ha ucciso mettendogli una bomba nella zuppiera del pranzo. Per rimetterlo insieme, ci sono voluti tre giorni. Adesso che roba, commissà, non puoi immaginare. Sembrava un puzzle. Sembrava? Un puzzle, un pezzo qui, un pezzo lì. Sangue. Ma basta, camicchioli, basta. e dalla mappa. Ehi! Atterti. Ah! Giovanna! Mal i mortacci, i due! La maghina nuova! Ehi! L'ultimo testimone l'ha ammazzata con una bomba dentro la zuppiera del pranzo E adesso che cosa mangiamo? E vado io giù, mi faccio fare dei toast E lo controllo personalmente La prudenza non è mai troppo Come? Avete già divorato tutto Eh sì Un polo alla diavola, fiorentina per due Insalata mista, funghi trifolati, un cesto di frutta Vede, io da bambino ho avuto tifo, paratifo e malario, no? Allora mi prende una specie di, diciamo, lo stomaco, il duodeno Ci abbiamo fame, va bene? Oh, adesso si prepari dei toast Assolutamente Dieci toast Dieci toast? Dieci normale, dieci farciti, vendi Ah, va bene, va bene Che c'è una nuova che si chiama Pasquale Bellachioma Sì, perché? Te vogliono il telefono Io mi chiamo Bezzabea Meggio perché? Caffona Qualtracca Sì, chi è? Ti avevo affettito La prima volta potevi salvati Ora è tu portati A meno che non mi consegni la ragazza Carine La pappa Oddio Se non avevate fame Potevate dirmi in una maniera più educata Polizia Lo conosci quest'uomo? Creme e cioccolata per te Limone e fragola per te Quanto è? Mamma, mamma Ci hanno rubato il gelato Certo, non sono tagliatelle, ma Sì, è vero Certo, non sono tagliatelle Ma che volete che rubi i gelati ai bambini? Non esistono persone tanto cattive Ma sì, è vero Che sonno che ho Senti, se ti va di riposarti, riposati Ando, scioglio gli occhi aperti Certo, non sono tagliatelle Signori, no grazie Fra poco avrà inizio il ricevimento Abagiana entrerà nella villa alle otto vivo E ne uscirà a mezzanotte vivo, ho detto vivo I camerieri? Controllati uno per uno E ognuno di essi per entrare ha bisogno di esibire un permesso speciale All right, all right, all right I tiratori scelti sui terrazzi? Piazzati Voglio microfoni dappertutto, anche nelle torte E voglio altri dodici poliziotti vestiti da camerieri L'orchestra? Un complesso rock, tutti controllati No, non voglio correre rischi Usiamo la banda della questura Ma sanno suonare soltanto marci militari? Meglio quelle che la marcia funebre A proposito, che cosa se ne sa di Bellachioma e della donna? Niente, commissario, assolutamente niente L'idea di Andrea Ritter è di farsi portare al ricevimento da Bellachioma Noi è lì che l'aspetteremo Pasquale Svegli Che? Eh? Il ricevimento Visto che siamo sopravvissuti fino adesso Ormai ci conviene andare Senti Andrea, io ho pensato una cosa Ma tu va, te ne va, lascia perdere Non ho fatto correre troppi rischi Io lo devo fare perché mi pagano Ma tu Eh no! Dopo quello che mi hai fatto passare Adesso voglio andare fino in fondo, caro mio Ma come? Non ci pensi più la tua carriera? E a me? Eh? A me non ci pensi Ma quanto tempo pensi che posso continuare a nascondermi così? Ve l'hai detto anche tu, no? Ma no, guarda Vada come deve andare Se destino che devo rimetterci la pelle così Pazienza Tanto Non importa proprio a nessuno di me Eh, neanche di me Di te mi importa invece E sai Io volevo dirtelo anche prima Ma Poi so che sei così prevenuto perché anche io sono Poi sì Che sono Vabbè ma Dico Una simpatica e virile amicizia Ci può sembra essere però No? Dirile? Dirile? Eh Dirile? Dirile? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove Dieci, uccido, tre, cinque, cinque, sette, cinque, cinque Che eh? Albicocca Il frangolo è il mio rossetto No Sì, è frangolo Ma che fregolo è fregolo, no Porca miseria maledetta Che cosa mi hai fatto fare, vattene via Ma Pasquale, dai, non fare il bambino Non vedi il sesso? Te lo tiro in destra o te lo tiro io? Eh? Vattene, vattene Pasquale, aspetta, senti, ti devo dire una cosa Ho detto di andartene Ma vieni qui, senti, ascoltami Ma insomma, ma mi vuoi capire? Mi vuoi stare a sentire? Sono una donna Una donna! Cosa devo fare per fartelo capire? Oh, senti, leggi qua, guarda Eh? Eh, sì Mi chiamo Andrea Maria Ritter Sono nata a Lugano, di sesso femminile E se finora mi sono fatta passare per un travestito È stato soltanto per nascondermi Per non farmi ammazzare Hai capito? Io ho capito sì Eh, se ti pare che non ho capito Eh sì, che io adesso mi andavo a innamorare D'un uomo mi andavo a innamorare Hai detto innamorare? Ho detto innamorare? Sì Eh, beh, ho detto innamorare, che è? Una parolaccia E mo? E mo? Andiamo Vado io? Sbrigati Allora facciamo Sono quasi pronta Buonasera Buonasera Il signore e la signora Bruschi via Po 4? Sì Senta, lei e la sua gentile signora Stasera dovete andare al pranzo dell'ambasciata come camerieri extra? Sì, perché? Siamo venuti per il pagamento anticipato della serezza Beh, è stato molto gentile ma non si doveva disturbare Per carità, niente Possiamo? Prego Dopo di Naro Naro, qui è? Due persone molto gentili Non vi preoccupate, fate i bravi che fra due ore vi mando a liberare Com'è? Benissimo, sarà fatto Grazie a tutti Grazie a tutti Allora, tutto a posto? Sì, signor commissario Ci sono agenti con i cani dietro ogni albero Tutti gli ingressi sono sorvegliati Mi raccomando, fermate tutte le persone sospette Senza alcun riguardo per nessuno, right? D'accordo Hai riconosciuto? Hai visto qualcuno? No, tra gli ospiti non c'è Ah, però non convenzo, c'è quasi tutta la polizia italiana C'è Locascio, Petruzzelli Ammazza, stanno tutti, eh? Caccavale, De Simone, tutti quanti Dove sei? Ah Guarda, guarda, chi c'è Andrea? Dove? Il cappuccetto rosso vicino alla buffe Mi vedi? Sì Ma dove sta quel disgrazieto di cavicchioni? Buongiorno Scusi, eccellenza Hai il braccio Musica, musica Scusi di nuovo, eccellenza Hai la gamba Musica Presto, 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 la gente sta aspettando Capicchio Allora, arrivano i contorni? Io c'ho domani sole Attentolo, chi mi ha preso, prestolo Stef, lo sciopero, presto, mani poi Domani come domani Aiuto! Ho una fame dal lupo, indovina di cosa voglia Ma come, qui in mezzo alla gente? È meglio Petto o coscia? Tutti e tre lo sai Porcellino Bella Uh-oh Oh Oh Grazie. Grazie. Ah no, grazie. Faccio da solo. Musica! Cavicchioli, guarda quando è vero il Dio e ti manda a San Vito Alto al posto mio. Ma vogliamo smetterla come sa San Vito Alto. Lei nei casini, la vedo e la piango, guai grossi, grossissimi. E ti pare? Come sa, abbiamo sbagliato tutto. L'assassino è una donna. Una donna? Ma quale donna? E chi lo sa? Se si sapesse saremmo a posto. A me l'ha detto Caputo, che l'ha sentito da Ventresca, che l'ha saputo da Lofano. Oh, stringi! Non mi sa, ma lei se lo metterebbe il rossetto alla fragole e le ciglia fitte? Ma che cazzo sta dicendo, Cavicchioli? Non dico lei personalmente. Il fatto è che queste sono le tracce lasciate dall'assassino sul luogo del delitto. Il rossetto alla fregola? Il rossetto alla fregola? No, alla fragola. Quello mi ha baciato a me. Allora, e già? No, non può essere. E non può essere perché? E chi le telefonava? Te che sei. Telefonava con me? Diceva che ci voleva ammazzare tutte e due. Aspetta. E no. E quando telefonava il killer, lei non c'era. Allora stava in gara, era lei che telefonava. Porca puttana, mi son lasciato fregare da una donna. Ma adesso ha finito di fregarmi, caro Cavicchiozzi. Ha finito. Mi ha fregato la pistola. Fermatela! Fermatela, camerieri, che è un assassino! Lasciami! Dai, buono! Lasciami! Disgrazieta assassina! Ma presi in giro tutto questo tempo a me! Lasciami! Ma che hai capito? Ma io ti ho preso la pistola solo per difendermi! Allora devo la vita a un cameriere italiano. Non un cameriere italiano, eccellenza, ma un commissario della polizia italiana. Sono il commissario Bellachioma. Uno dei migliori elementi. Sì. Della nostra polizia. Che non va più a San Vito Alto. Sì. Meraviglioso, Bellachioma. Io l'ho sempre ammirata tanto. Non avete capito? Sono innocente! Ma perché non volete credermi? No! Ma perché non volete? No! No, 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 no. Basta! Otto volte mi sei sfuggito! Avagian, bava affanculo! Oh, no, un momento. Caro Pasquale, ma perché no? Io ti farei capo della mia polizia. avresti una vira tutta per te, onori, glorie, donne quante ne vuoi, soldi. La ringrazio, eccellenza, ma non posso. Devo sbrigare delle cose ancora qui. Devo ritrovare una persona. Ma è così importante? Yes. Ciao. Vai, vai, vai. Buon viaggio. Grazie, Giannetti. Andrea, Andrea. Andrea, apri, dai, per cortesia. Adesso è tutto chiaro. Voglio chiederti scusa, sì. Io lo sapevo che tu non eri l'assassina, ma quel disgraziato me l'ha detto di cavicchioli. Era talmente convinto che mi ha fatto cascare pure a me. Andrea, ho sbagliato tutto, va bene. Io sbaglio sempre nella vita. Che vuoi da me? Mi ammazza. C'ho una moglie mignotto, un figlio deficiente, un cane rompipalle. Però a Villa Borghese, io ero sincero con te. Andrea. Andrea, guarda che io ti cosco, come cavolo si dice, insomma, io, insomma, io ti amo. Sei sicuro? Sicurissimo. Audiesto. Ciao. Sì. Grazie a tutti.